La rimessa laterale è ben fatta, quindi non si calpesta la linea, non si salta, si controlla bene la palla, chi ha battuto la rimessa laterale diventa il difensore, uno contro uno per fare gol. Se conquisti la palla, devi al più presto passare la palla a me che sono qui, ok? Vai! Ok, buona rimessa laterale, subito! Uno contro uno, in velocità! Cinque, quattro, tre, due, grande, perfetto, cambio! Ok, attacca! Bravo! Bravo, perfetto! Ok, go! Bravo! Vai che buona! Una, cinque, quattro, tre, due, bravo portiere! No, fermo! Stop! Non si salta, non devi saltare, altrimenti l'arbitro sai cosa dice? Cambio, palla agli avversari. Riprova, prendi la rincorsa, un piede deve sempre rimanere attaccato. Non saltare, hai saltato ancora, ripeti ancora, vai! Non devi saltare! Ok, vai! Sei rimasto sulla punta dei piedi, al limite del regolamento. Parti in centro! Bravo! Vai! La parla eshe! ok, occhio a non saltare bravo, conquista palla subito a me ok, bravo bravo, avete visto il difensore bravo, bravissimo perfetto, è stato bravo bravo, bravo, bravo